Forte della sua storia, nel 2017 compirà 70 anni, la cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione Cairepro di Reggio, la più antica cooperativa di progettazione d'Europa, è anche la prima firmataria nella nostra città del referendum di iniziativa popolare per contrastare il fenomeno delle false cooperative, quelle imprese, cioè, che nascono sotto il nome di Coop, godono di altaluni benefici, ma poi di fatto non lo sono. Un fenomeno presente anche nella nostra provincia è che l'Alleanza delle Cooperative, nata dall'Unione di Lega Coop e Conf Cooperative, vuole combattere chiedendo al Parlamento di legiferare in materia. C'è da dire che non c'è una legge che obbliga una cooperativa ad appartenere ad una centrale, ma la differenza sta nel fatto che una Coop non associata è soggetta ai controlli ministeriali e non è detto che questi siano puntuali. La Cairepro, che per rinfrescare la memoria e la cooperativa che ha dato i Natali al villaggio architettico, la figura di Osvaldo Piacentini e che ha progettato gli edifici di via Meuccio Ruini, sede di Lega Coop e Unieco, ha dunque aperto la pista a tutte le altre cooperative reggiane nel firmare questa iniziativa. Per queste cooperative dovrebbe essere il ministero a fare le revisioni di bilancio, ma purtroppo questa revisione di bilancio non avviene, per cui sono un po' fuori controllo queste cosiddette false cooperative. Poi esiste anche il tema delle cooperative che nascono e muoiono lasciando debiti nei confronti dell'erario e quindi questa legge consente alle associazioni di categoria di segnalare all'agenzia delle entrate quelle cooperative che stanno agendo in questa maniera.